Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV del sito Gianluca Rossi.it Inter Atalanta 2 a 2 è stata, diciamo la verità per chi ama lo sport, una delle partite in assoluto più belle. Beh insomma c'è poco da dire con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, capovolgimenti di risultato, partita veramente incredibile. Peccato che non ci abbia premiato il risultato perché poi alla fine era il primo scontro diretto capitato in questa giornata che è una giornata comunque che come vi ho sempre detto diceva forzatamente Milan, Juventus, secondo me poi lo vedremo domani e anche Napoli con Napoli-Cagliari questa sesta giornata. Poi ovviamente settimana prossima potranno cambiare le cose ma torniamo alla partita. È stata una partita che a un certo punto abbiamo pensato di poter vincere, devo dire subito, già facilmente quando Barella mette al centro una palla per Lautaro sul modello di quello che era accaduto a Genova e Lautaro si inventa il quarto gol in campionato meraviglioso con una battuta al volo che non lascia scampo all'Atalanta, lì siamo in vantaggio, non lascia scampo a Musso, siamo in vantaggio dopo soltanto 5 minuti. Da lì abbiamo un'occasione per chiudere la partita, Dzeko si allunga il pallone e purtroppo non la chiudiamo, tant'è che da lì non so che cosa ci succede ma certamente l'Atalanta torna a quella dei bei tempi, l'Atalanta comincia a giocare un calcio straordinario non li prendiamo mai, in particolare Malinowski e Malinowski ci fa male, ci fa male con un tiro che non ci aspettiamo alla mezz'ora e ragazzi un tiro da fuori area e l'Atalanta pareggia. Da lì passano un 7-8 minuti di grandissima difficoltà ed è ancora Malinowski ad impegnare Andanamec poi come al solito se daranno delle responsabilità di Andanamec in realtà il tiro gira in maniera pazzesca e Toloi è più lesto dei nostri tre difensori che sono un po' piantati col tap-in in rete. Siamo praticamente nel finale del primo tempo e rischiamo devo dire più volte, anche a inizio ripresa non riusciamo ad essere noi perché è sempre Malinowski, l'uomo dovunque che prende un palo zappata a un altro tap-in ma meno male Bastone gli calcia via il pallone. Insomma ragazzi da lì siamo sotto, siamo sotto, l'Atalanta sembra quella dei bei tempi e noi non li prendiamo mai perché questa è la verità, non riusciamo neanche ad essere noi stessi. Poi siccome facciamo sempre il mazzo al nostro allenatore quando sbaglia i cambi, scusate ma secondo me la svolta ad un certo punto avviene, se non ricordo male, al minuto 63. Al minuto 63 Gasperini richiama Pessina, Malinowski e Zappata che diciamo la verità ci stavano facendo abbastanza impazzire e manda in campo Ilicic, Jim City e Piccoli. Sarà probabilmente l'idea di doverli risparmiare per la Champions, perché tutti e due abbiamo la Champions, resta il fatto che anche Inzaghi fa i suoi cambi, naturalmente cambia gli esterni, una sua caratteristica, leva Bastoni che è già ammonito, mette Di Marco e devo dire che Di Marco è un protagonista nel bene e nel male di questa partita, perché noi raggiungiamo il pareggio dopo nemmeno dieci minuti che Gasperini ha cambiato l'assetto tattico e ha tolto i suoi uomini migliori. È proprio un'azione insistita di Di Marco, anche Limusso, ma noi guardiamo sempre solo Andanovic, non è perfetto nella respinta, tant'è che anche il gol del pareggio dell'Inter avviene su un tappin, come era avvenuto il gol del vantaggio dell'Atalanta su un tappin. Anche Limusso non è preciso, potrebbe allontanare il pallone in maniera diversa, il pallone resta lì e devo dire che è facile per Dzeko insaccarlo. È Dzeko, quinto gol comunque in sei partite, se pensate che l'anno scorso ne aveva fatti sette in tutto il campionato e adesso abbiamo Dzeko a cinque, Lautaro a quattro, Immobile ne ha sei. Insomma mi pare che gli attaccanti ci siano. Secondo me entra bene anche Vessino, gioca un'ottima partita. Noi riprendiamo il controllo delle operazioni, facciamo paura a quel punto all'Atalanta, la sensazione è che la partita possiamo andarla a vincere noi dopo che avevamo subito l'Atalanta. Devo dire che al minuto 84 una follia di Demiral per anticipare Dzeko allunga il braccio, non c'è bisogno neanche del controllo del VAR, devo dire da parte di Maresca, sì quello là di Conte, vi ricordate Maresca, sei sempre tu sei Maresca, rigore. E lì ci sono molte polemiche adesso perché Lautaro nel frattempo è già uscito, è entrato Sanchez male perché poi Sanchez perderà delle palle incredibili ancora, esponendoci al contropiede dell'Atalanta, insomma Sanchez sempre male. E a un certo punto sul dischetto ci va Di Marco, Di Marco che è un ottimo tiratore, ve lo ricordate il gol che ha fatto su punizione, proprio pochi giorni fa. E però Di Marco che di solito incrocia sempre, lo dirà poi negli spogliatoi Pessina, Di Marco è uno che i rigori li incrocia sempre, forse in quei minuti che passano a sistemare un pochino gli uomini fuori dall'aria da parte dell'arbitro Maresca, evidentemente succede qualcosa nella testa di Di Marco che cambia idea, tira un rigore di potenza fortissimo ma lo tira sulla traversa. Poi Agustin Musso, quando Agustin Musso si bullerà un po' negli spogliatoi dicendo l'ho mandata io sulla traversa, non è un rigore calciato male, come c'è, sapete quelli tipo Giorgini o Molle o Alato, però è il rigore che se non fai gol su rigore è colpa tua, cioè Di Marco calcia forte, potente ma troppo alto, la palla va sulla traversa e da lì devo dire che segue un momento di scoramento totale, un momento assolutamente di scoramento totale, perché l'Inter non riesce più a riprendersi, si rinvigorisce l'Atalanta che arriva a segnare il gol del 3-2 praticamente a due minuti dalla fine con Piccoli, però che cosa succede ad un certo punto? Ebbè ad un certo punto succede che noi siamo sotto 3-2, il gioco sta per riprendere al centro del campo e una cosa di cui non ci siamo accorti, nessuno si è accorto, non se ne è accorto neanche l'arbitro, non se ne sono accorti i guardaline, una palla che Andanovic uscendo precipitosamente dalla porta ha calciato via per evitare un corner ed è già uscita, quindi quel pezzo di partita che porta il gol di Piccoli viene completamente annullato e ci sta, devo dire, ci sta perché si riprende con il calcio d'angolo, Gasperini fa il diavolo a 4, vi potete immaginare, mettiamoci al suo posto, devo dire che poi quando arriva il fotogramma la palla è veramente oltre la linea di fondo e devo dire che il VAR in questo caso dà ragione all'Inter, altre volte su dei rigori non dati a Verona o anche, devo dire, recentemente col Bologna non era nemmeno intervenuto, ma questa volta era troppo grossa, cioè il pallone era fuori di 40 centinaje, immaginate se Aurigliano al VAR non avesse avvisato Maresca. E così la partita si chiude 2-2, devo dire che abbiamo anche noi un'altra grande occasione ad un certo punto, un'altra grande occasione, Sanchez l'unica cosa buona della partita, mette una palla sulla testa di Dzeko, è il 95esimo, la partita finisce al 96esimo, però Dzeko non c'è tra la porta. Allora, non c'è da, secondo me, scoraggiarsi, almeno, questa è la mia idea. Ci sono le solite critiche ad Andanovic, Andanovic che tra l'altro para, ancora credo su Malinoski, un pallone pericolosissimo su Zapata, proprio tu per tu, anche lì poi scopriamo che il giocatore dell'Atalanta è fuori gioco e anche quell'azione lì non vale. Però, al di là delle nostre critiche del fatto che il primo scontro diretto sarebbe piaciuto anche a me vincerlo, ragazzi, ci sta che in questo momento, vi devo ricordare l'anno scorso come eravamo messi, l'anno scorso noi di questi tempi pareggiavamo a Bergamo con l'Atalanta 1-1, prima avevamo pareggiato col Parma 2-2, era il momento in cui se ne dicevano di tutti i colori, a Conte credo fossimo staccati molto più di oggi dalla vetta, è il famoso 2 novembre in cui gira il mio brano televisivo, in cui io dico sento comunque che vinceremo lo scontro, avevamo allora 8 squadre davanti. Ripeto, lo scontro diretto, se pensiamo che alla fine l'episodio con la palla oltre la linea di fondo è un episodio da regolamento che non esiste, perché si ritorna indietro, il rigore è colpa nostra. Adesso possiamo discutere perché ha tirato Di Marco, perché non ha tirato Dzeko, Inzaghi ha spiegato che Di Marco era fresco, un ottimo tiratore, è andata così. Ragazzi, quando sbagli il rigore agli ultimi minuti sarebbe stato 3-2, perché secondo me l'Atalanta poi moralmente non si sarebbe più ripresa, però ripeto, l'anno scorso eravamo in condizioni molto peggiori. Quindi vi invito a restare calmi, certo adesso dobbiamo fare bene in Champions e andare a vincere a Reggio Emilia con il Sassuolo per non perdere il contatto, ma ci sta che in questo momento possa andare avanti qualcun altro, in questo caso il Napoli, che mi sembra che sulla carta abbia una partita facilissima. L'importante è stare lì e valutare questa partita per quello che è stata, una partita che abbiamo rischiato di perdere per il dominio a un certo punto dell'Atalanta nel primo tempo, ma che poi non abbiamo vinto perché abbiamo sbagliato il rigore noi, perché questo dice la fredda cronaca, come si diceva. Con questo l'Atalanta che è tornata a lei, attenzione, adesso affronta il Milan, e l'Atalanta che avevamo forse, secondo me, prematuramente un po' tolto da ambizioni scudetto, e beh, ma lo sapevamo, è un cliente che oltre ad averlo dimostrato con noi potrà essere davvero un brutto cliente per tutti. Ciao a tutti, viva l'Inter, prossimo video editoriale, le pagelli, gli approfondimenti, e ci sentiamo presto. Ciao a tutti.